La polizia di Stato ha scoperto e sequestrato in un'abitazione sita in una contrada di Manduria un ingente quantitativo di sostanza stupefacente ed arrestato un cinquantenne incensurato del posto. Nell'ambito dell'operazione denominata Alto Impatto, i poliziotti della squadra mobile nella zona di Manduria hanno eseguito alcune perquisizioni domiciliari, tra cui quella in un'abitazione che aveva nelle sue pertinenze un ampio piazzale. Grazie al fiuto di Udor, un pastore tedesco dell'Unità Cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi i poliziotti sono riusciti a scovare tra numerosissime bombole del gas accatastate in quel piazzale una al cui interno era ben nascosta una notevole quantità di sostanza stupefacente. La bombola priva di gas era stata tagliata artigianalmente nel fondo creando un vero e proprio sportello. Al suo interno i poliziotti hanno recuperato 10 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1 kg una busta di cellofan contenente marijuana per circa 70 grammi e in un vasetto due involucri in cellofan di colore bianco contenenti cocaina per circa 90 grammi. Inoltre, sempre nello stesso piazzale, Udor ha prima scovato un'altra busta con 300 grammi circa di marijuana e in un vicino garage un altro involucro di plastica avvolto da nastro da imballaggio con all'interno più di un chilo della stessa sostanza stupefacente. All'interno del garage gli agenti della squadra mobile hanno recuperato 220 cartucce di vario calibro detenute illegalmente. Infine, in un armadio blindato posto nella camera da letto del cinquantenne, i poliziotti hanno registrato la presenza di quattro pistole, un fucile a pompa e due carabine, oltre a circa 2.000 cartucce di vario calibro, e gli strumenti e il materiale necessario per il loro confezionamento. Quanto ritrovato tutto regolarmente detenuto, è stato sottoposto al ritiro preventivo al fine di procedere secondo la normativa vigente in materia di armi. Trasmessi gli atti all'autorità giudiziaria competente, il cinquantenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva, di munizionamento ed accompagnato presso la casa circondariale di Taranto.